Eccoci qua al terzo incontro di questa prima lega power con il mono verde Vediamo un po' contro chi siamo Allora io vedo un goblin come avatar Cominciamo noi naturalmente e teniamo questa mano Che è molto basata sulla skirge Vediamo se l'avversario tiene pure lui, si Quindi cominciamo subito mettendo la nostra patina Patina malefica Magari l'avversario fa foil adesso Ok E' entrata Vediamo se ci rimane per terra Ok Ma quindi è proprio lei La terra morfic Io lascerei mana stappato per ora Per proteggere il nostro Imp Quindi lascerei mana stappato Poi al prossimo turno magari facciamo così Qualche pompaggio Oh no Blu nero? Cos'è? Blu nero Che belle terre Ok questo non ci da molti problemi Eeeh Gitaxian probe Questo potrebbe Essere un problema Vabbè finchè non c'è un edit Diciamo Forse Uh Attacchiamo Facciamo skirge E passiamo Vediamo se l'avversario ci spia la mano Come si regola Un altro hour di Bolas Va bene Che non trova nulla Fra l'altro Se noi avessimo bloccato Un bolt skirge E l'avessimo fatto uccidere Potevamo pompare Con doppio anger Qua sopra Per farlo diventare Un 9-7 Soltanto che ci sarebbe mancato Un punto vita per l'Ital Ok E io direi che Possiamo Lasciar passare Quest'altro turno Poi in caso Facciamo tutto In una volta Facciamo tutto In una volta Sempre Messo che l'avversario Non abbia Svariati counter In mano Questo è probe In una volta E poi Grazie Grazie a tutti. 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 Dopodiché... Brainstorm... Mille carte in mano... Editto? E' proprio lui? Io... Casterei... Vines... L'avversario... Dice... Decay... Che a questo punto probabilmente... Verrà counterato da Foil... O da Days... O da Days... Ok... Ok... Quindi abbiamo sbagliato a fare... Eh... 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 Cavolo... Quindi abbiamo sbagliato a fare il... Vines sul... Vines sul... Disfigure... Ci potrebbe salvare... Si... E... E... Ci potrebbe salvare... Ci potrebbe salvare... Si... Ci potrebbe salvare... Diciamo che... Diciamo che con 200 carte in mano... L'avrei dovuto prevedere... Anche perché il disfigurer... Non era proprio... Necessario... A... Certo con un edit... Poi... Avremmo dovuto comunque rinunciare... Nest Invader... Entrerà in gioco? Ebbene si... Ebbene si... Pu... Bisogna vedere se ci rimane... ... ... Grazie a tutti. Ok, ok non ok, allora, Epic Confrontation, la vogliamo? Perché, allora, Gutshot, forse contro Delver e basta, perché non so nemmeno se usa le fatine questo tizio. Archer non penso proprio, ora come ora, e questi due no. Però, Vines io le voglio tenere, giustamente, quindi che cosa togliamo? River Boa lo voglio. Io forse lascerei così. Sì, forse lascerei così. Diciamo che gli auguri bloccano bene le nostre due due, quindi forse Confrontation potrebbe farci guadagnare un turno. Però, se lui ha le rimozioni, vi preferisco mettere Owl, Hunger, scusate. Ma io riproverei così, sperando di non fare il secondo errore. Il secondo errore grave di questa partita, questo è Kip. E' semplicemente per il Boa. Purtroppo turno 1 vuoto. Per l'altro non so se voglio fare Boa adesso, eh. Però... Diciamo che lui ha 3 miliardi di modi per uccidermelo. Con o senza... Primozia, perché comunque lui ha Sfigure, ha Decay, quindi comunque la rigenerazione non funziona su quella roba. Beh, beh, beh. Silana non l'abbiamo ancora vista. Il fatto che lui metta Wilds è tranquillizzante, sotto un certo punto di vista. Però, comunque, se facciamo guide qua sopra... Ah, ecco. Ok. Attacchiamo. Mi sa che è finita questa partita. È un pochino finita. Laure non trova nulla. Ok. Ok. Grazie per la visione. L'avversario rimescola. Ed è il versia. Io qua attacco. Non curante. Ops. Ops. Decay. Grazie a tutti. Ebbè, un bel foil. Non ce lo toglie nessuno. Facciamo questa pazzia, tanto. La partita è persa. Facciamo questa pazzia. 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 Facciamo questo.